Avete tutti i dati per capire perché il libro ha detto un'altra nuova, il libro ha detto un'altra nuova, perché il signor deve ottenere i conti di un'altra nuova. Sì, dirò che non è questo il giocatore nocino, ma è questo il giocatore nocino, che è ancora più vicino al carbone che è il giocatore nocino.